Ai campionati italiani assoluti organizzati dalla Federazione Nazionale Danza Sportiva che sono stati ospitati dal Palasport di Rimini, altri due ragazzi lucchesi hanno centrato l'obiettivo dello scudetto tricolore. Il 13enne Alessio Donati, in coppia con Emma Vannucchi, di due anni più giovane, si sono infatti laureati campioni italiani danze standard categoria 12-13 anni nella classe B2. Una grande soddisfazione che arriva a coronamento di una lunga preparazione e come premio del talento cristallino dei due ragazzi che danzano alla scuola MM Passione Danza di Vico Pelago, un successo che premia anche il lavoro e la dedizione dei maestri Mirko Francesconi e Milena Cervelli.